E' il big match del turno numero 4 del Gironi di Ritorno, il 21, nel computo generale della Serie D Girona F. L'Aquila e Campobasso si incrociano al Gran Sasso d'Italia con i Monizani avanti 5 punti rispetto alla formazione abruzzese di Roberto Cappellacci. Quest'ultimo cambia qualcosina rispetto alla gara col Monte Rotondo, inserendo di nuovo Bellardinelli sull'out di sinistra, mentre Mandrelli va a prendersi l'altro lato di difesa. Per Golizi schiera la formazione migliore possibile, Di Nardo riferimento offensivo e l'inmezzo Maldonado a disegnare le giuste geometrie. A fischiare c'è Liotta di Castellammare di Stabia. Al sedicesimo l'Aquila ci prova con più insistenza, con la conclusione scomposta di Origlio su traversone da destra. Per Esposito non c'è nessun problema. Due minuti dopo il Campobasso si procura la prima occasione nitida del match. Lombari beffa Mandrelli, ma il faccia a faccia con Michelin vede quest'ultimo uscirne vincente con un intervento capace di coprire lo specchio della porta. La partita si gioca principalmente a centrocampo, con le rispettive difese brave a tarpare le ali agli attacchi avversari. Le conclusioni arrivano col contagocce e allora nella cronaca inseriamo la trama aquilana tra Banegas e Giulio Dori, con il numero tre che mira lo specchio dal limite, ma la conclusione del trentaseiesimo non procura brividi a Esposito. Al quarantaduesimo azione da Moviola con l'Aquila che con Giulio Dori trova il filtrante a favore di Banegas. Il dieci rosso-blu, apparentemente in anticipo, cade a terra dopo l'incrocio con Bonacchi. Liotta lascia correre. Rivediamo il tutto con il replay di Donatello Ricci. Qualche secondo più tardi ancora Banegas a imperversare in area, ma il suo mancino di precisione viene respinto sulla linea da Pacillo, con Esposito ormai battuto. Sul proseguo Origlio arriva prima di tutti, ma l'estremo difensore ospite a branca in tuffo la debole conclusione. Finisce così un primo tempo poco spettacolare che si è acceso un po' negli ultimi minuti, grazie soprattutto all'Aquila. Campobasso che ha tenuto con ordine, evidentemente pensando ai cinque punti di vantaggio. Ad inizio ripresa, un opaco Costa Ferreira rimane negli spogliatoi e al suo posto Cappellacci preferisce Alessandro. Per Golizzi decide per gli undici iniziali. Il secondo tempo inizia a ritmi bassi e per un quarto d'ora regala una noia clamorosa. Gli unici sussulti arrivano durante i cambi, ma è proprio grazie a questi che l'Aquila trova il gol del vantaggio al minuto 60. Sulla catena di sinistra lavorano bene Origlio e Bellardinelli. Quest'ultimo vede il pertugio per il neo entrato Alessandro che penetra in area come lama calda nel burro e appena trova la posizione ottimale, mira e trova l'angolino alla destra di Esposito. Il Gran Sasso d'Italia si infiamma col venti rosso-blu che va a prendersi anche l'abbraccio dei tifosi. La capolista non demorde, malgrado lo svantaggio e tra virgolette rischia di trovare subito il pari con la testata di Amonchelet. Ma Michelin indossa il mantello di Superman e con un intervento tutto distinto manda in angolo. Molisani che ci provano anche da corner, col neo entrato Persichini che tenta la volée un minuto dopo, ma la conclusione sorvola la traversa di Michelin. Gli ultimi minuti sono vietati ai deboli di cuore con il Campobasso che tenta ancora di mettere le cose in chiaro nel dimostrare il carattere della capolista. Il colpo di testa di Romero sull'assistenza di Coghen fa correre un brivido enorme ai 3500 aquilani che ricominciano a respirare dopo che il pallone finisce di parecchio a lato. Il Campobasso le prova tutte, ma rischia di sbilanciarsi. Un minuto prima del fisco finale Alessandretti anticipa l'avversario e appena in area serve un cioccolatino a Banegas che col suo piede preferito scarte il regalo donando nel contempo ai suoi il gol della certezza e dei tre punti che rendono questo campionato ancora più combattuto. Lì davanti ora è Bagarre con quattro squadre racchiuse in soli tre punti.